Spargendo del sale su una lastra metallica che vibra, si forma la figura di un'onda stazionaria. Il sale si raccoglie dove la vibrazione è minima, lungo le cosiddette linee nodali. Ciò avviene solo a determinate frequenze, ma si può cambiare la figura tenendo il bordo della lastra in punti differenti. Il sale si raccoglie dove la vibrazione è minima, lungo le cosiddette linee nodali. Il sale si raccoglie dove la vibrazione è minima, lungo le cosiddette linee nodali. Grazie a tutti.